Ti abbraccerò con gli occhi e col pensiero e sarà un gesto di amore vero. Ti baccerò con lo sguardo soltanto e sarà un bacio come ti avessi accanto. Ti abbraccerò col mio più bel sorriso e sarà come stare viso a viso. Ti stringerò con una telefonata e sarà come un abbraccio per tutta la durata. Farò così in questi strani giorni sperando che bel tempo poi ritorni. Allora quando tutto sarà passato ti abbraccerò come non ti avevo mai abbracciato.